Stasera Sant'Agostino, il titolo di questa puntata per far concorrenza a quella trasmissione serale della Palombelli è nei fine settimana con l'Agentini. Qui, cari amici e cari amiche, vorrei parlare del settantunesimo festival della canzone italiana condotto da Amadeus e Fiorello con la partecipazione di varie donne. Pensate che ogni sera c'è una presentatrice diversa. Difatti, ieri sera Matilda De Angelis, stasera Elodie, domani sera Vittorio Aceretti, venerdì sera Barbara Palombelli la rompi palle, ed infine sabato sera, quinta e ultima serata, Simona Ventura. Il festival di Sanremo di quest'anno è offerto dalla team e da tutta la gamma Sozuki Hybrid. Mentre lo scorso anno non abbiamo avuto coincidenze, nel senso che durante il festival di Sanremo dello scorso anno non abbiamo avuto associazioni di somiglianze e di idee. Quest'anno invece qualche coincidenza. E voglio vedere fino a domenica quante associazioni di idee avremo. finora abbiamo avuto due, una stamattina, finora abbiamo avuto due associazioni di idee o di somiglianza nel corso di questo festival di Sanremo di quest'anno. Uno, dicevo, uno è avvenuto stamattina, perché stamattina con la presenza del mio amico architetto Ottorino abbiamo visto Daniele Capezzona a canale 5. Due, in presenza del mio amico Cesare Sagnireto abbiamo visto Cesare Bonamici, sia al TG5, che a stasera Italia con la barba palombella. Bene, spero che il festival di Sanremo sia bello come lo scorso anno. Lo scorso, due anni fa, il festival di Sanremo è stato un festival mediocre, perché, perché Baglioni, dovete sapere che non era cosa fare il conduttore. La canzone vincitrice del festival di Sanremo di due anni fa, Soldi, è una canzone di merda, scusate, è una canzone di merda. Scusatevi tanto, le mie parolacce. Bene, signore e signori ci aggiorneremo a domani. E dovete sapere, a storia è vera, in collegamento da Sanremo c'è il vittorio, in tuo caso. Avevo detto, sia venerdì scorso che sabato scorso, che sarà difficile parlare del festival di Sanremo, perché me ne sarei andato via, me ne sarei andato a Roma. Qui, in questo caso, ho detto, tanto per giocare, tanto per cazzeggiare. Tant'è vero che durante la scorsa settimana ho visto bionde, sia al supermercato, per strada e dal balcone del nostro attuale studio. Buona serata a tutti!